Il clima che divide il G20 è il tema principale delle proteste di piazza, varie le manifestazioni tutte senza incidenti, in strada i giovani di Fridays for Future e centri sociali ma anche Cobas, lavoratori all'Italia e Whirlpool, a piazza San Giovanni i sit-in del partito comunista contro il governo Draghi. Dopo il varo della legge di bilancio, immobilitazione delle forze sindacali, CGL, Cisle, Wille in dissenso soprattutto sulle pensioni anche se ora non si pensa allo sciopero. Confindustria invece promuove la manovra ma resta in attesa dei decreti attuativi. Gli anticipi dell'undicesimo turno in Serie A è sempre più crisi per la Juventus sconfitta a Verona, pari tra Atalanta e Lazio, vittoria del Torino. Stasera il big match Roma-Milan nel tennis sfuma la finale di Viena per Yannick Sin, sconfitto dalla statunitense Tiafo numero 49 del mondo. 7 e 29 minuti, buongiorno da tutti noi, benvenuti a questa prima edizione del telegiornale che apriamo naturalmente parlando del G20 che si tiene a Roma. Ieri c'è stata la prima giornata dei lavori, oggi la giornata conclusiva è stata trovata un'intesa per quanto riguarda la minimum tax per le aziende leader dell'economia globale, intesa di massima anche per quanto riguarda la campagna vaccinale, soprattutto con i vaccini da destinare ai paesi più poveri e invece nulla di fatto per quanto riguarda un accordo sul clima. Vediamo. La parte più difficile arriverà oggi dopo il primo giorno di vertice concluso dalla cena al Quirinale, segnata dal discorso del presidente Mattarella, il quale ha invocato la necessità di imprimere una svolta decisiva. La domenica del G20 romano sarà tutta incentrata sul clima, argomento sul quale trovare un'intesa si preannuncia molto difficile. Meno complicata è stata la giornata di ieri. L'ok alla Global Minimum Tax al 15% sui profitti delle multinazionali andava solo ratificato, mentre, per quanto riguarda la lotta alla pandemia, i grandi del mondo si sono impegnati tra le perplessità di molte organizzazioni che in questi lunghi mesi hanno visto troppe promesse tradite affinché il 40% della popolazione mondiale venga vaccinato entro il 2021 e il 70% entro metà del 2022. Simbolica la photo opportunity cui la presidenza italiana ha deciso di far partecipare una rappresentanza degli operatori sanitari. Come di consueto, parallelamente ai lavori del summit, è andata in scena anche una lunga serie di incontri a margine utili a stabilire strategie comuni e ad appianare vecchie divergenze. Come quello tra il premier Draghi, che nel suo discorso ha parlato di un nuovo modello economico più equo ed inclusivo in fase di costruzione, e il presidente turco Erdogan, dal primo definito nell'aprile scorso un dittatore in seguito all'ormai famigerato Sofagate ai danni della presidente della commissione von der Leyen, anche lei protagonista di un faccia a faccia con lo stesso Erdogan, per la prima volta da allora. Presidente turco che oggi vedrà anche Joe Biden, il quale ieri ha parlato con Merkel, Macron e Johnson del nucleare iraniano. L'intento di fronte alla crescente preoccupazione per le attività nucleari di Teheran è quello di far rivivere l'accordo del 2015. E sempre a margine del G20, Stati Uniti e Unione Europea hanno raggiunto un'intesa per eliminare alcune tariffe sull'importazione di acciaio e alluminio. E allora, come dicevamo, se da Roma, salvo sorprese dell'ultimo minuto, non si arriverà ad un'intesa sul clima, gli occhi sono puntati sul successivo appuntamento di qui a poche ore che si terrà a Glasgow in Scozia, la COP26, voluta dalle Nazioni Unite al centro del confronto proprio il clima. È stallo sul clima al G20 di Roma. Proprio mentre a Glasgow in Scozia si apre la COP26, la conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, i leader dei 20 paesi responsabili da soli dell'80% delle emissioni di CO2 sul pianeta trattano per sciogliere il nodo più intricato, fermare il riscaldamento globale. Ma i negoziati sono in salita, al punto che in base alle prime bozze circolate finora dal comunicato finale del G20 sarebbe stato addirittura cancellato il riferimento al 2050, sostituito dal più vago a metà secolo, come deadline per un mondo ad emissioni zero. Cine ed India, due tra i maggiori produttori di emissioni inquinanti, mirerebbero da tempo a posticipare il termine al 2060. Nel suo intervento e in videoconferenza il presidente cinese Xi Jinping non è arretrato di un centimetro, tornando a sostenere il principio delle responsabilità comuni ma differenziate ed esortando i paesi sviluppati a dare l'esempio nella riduzione delle emissioni, accogliendo pienamente le particolari difficoltà e preoccupazioni dei paesi in via di sviluppo. Sembra quindi destinato a slittare l'obiettivo fissato a Parigi nel 2015, entro il quale maggiori economie del mondo si erano impegnate a contenere l'innalzamento delle temperature entro un grado e mezzo. Nonostante i numerosi risultati conseguiti ieri dunque, le difficoltà del negoziato sono state confermate anche da fonti europee, convinte però che non si andrà verso un fallimento del vertice. Le bozze finora trapelate sono versioni preliminari, gli scerpa sono al lavoro e continueranno per tutta la notte la loro sessione, aveva assicurato ieri sera Palazzo Chigi. L'obiettivo è di scongiurare il flop delle trattative che, a cascata, potrebbe portare allo svuotamento della COP26, a cui tra l'altro Xi non parteciperà neppure dal remoto. L'Italia ha quindi la responsabilità di lanciare un segnale positivo, almeno sulle risorse, con l'annuncio di un fondo più cospicuo destinato al clima. Non c'è problema più urgente della salute futura del nostro pianeta e delle persone che lo abitano, ha dichiarato il principe Carlo di Inghilterra, che domani aprirà i lavori della COP26. E ieri sera tutti i leader del G20 hanno cenato al Quirinale, ospiti del Capo dello Stato nel suo discorso di benvenuto, ha parlato della responsabilità del futuro e della collaborazione. La pandemia, ha detto Sergio Mattarella, ha reso evidente in maniera drammatica che nessuno, a prescindere dalle dimensioni della sua economia, è in grado di affrontare da solo problemi che riguardano la condizione generale dell'umanità. Il multilateralismo e la cooperazione rappresentano le sole risposte concrete ed efficace alle difficoltà e alle tensioni che attraversano il pianeta. Non possiamo evadere la nostra responsabilità di fornire risposte, ha detto il Presidente della Repubblica. Lo dobbiamo alle aspirazioni a un mondo più giusto e migliore e lo dobbiamo ancora di più alle nuove generazioni alle quali va assicurato un futuro. E allora, lasciamo le immagini del Quirinale, perché ieri, mentre si tenevano i lavori del G20 alla nuvola, all'euro, in questo quartiere di Roma, non molto distante da lì, si tenevano invece delle manifestazioni alla zona del quartiere Ostienza, alla bocca della verità. È stato un corteo per la verità con migliaia di persone. Non ci sono stati, fortunatamente, episodi di violenza, anche se il corteo era seguito da un imponente dispositivo di sicurezza. Vediamo. Lo spiegamento di forze dell'ordine è stato ingente. Migliaia di agenti impegnati nelle strade della capitale, dove ieri ci sono state manifestazioni e cortei di dissenso, di critiche, anche dure, ma nel sabato del G20, fuori dai palazzi, non c'è stato alcuno spazio per la violenza. Si è cominciato dalla mattina presto, poco dopo le 7.30, quando una cinquantina di manifestanti del climate camp, il campeggio ambientalista, organizzato da un centro sociale di Roma, hanno bloccato in segno di dissenso al summit la strada che porta alla nuvola, il luogo in cui si tiene il vertice. Un'azione dimostrativa durata pochi minuti. Più lungo, invece, il corteo cominciato nel pomeriggio organizzato dai giovani di Friends for Future, Cobas, centri sociali, lavoratori all'Italia, Whirlpool. Voi, il G20 e noi, il futuro. Uno dei tanti striscioni mostrati dalle 10.000 persone che hanno sfilato da Ostiense, quartiere a sud della capitale, fino alla centralissima Bocca della Verità. Come detto, tanto colore, molti cori alla voglia di dire la propria su molti dei temi che vengono affrontati dai politici riuniti a Roma. Uno su tutti, ovviamente, quello del clima, con gli esponenti politici accusati di non voler rispettare gli accordi di Parigi e di fare comunque troppo o poco per uno dei drammatici problemi del nostro tempo. C'è spazio per la richiesta di sospendere almeno temporaneamente i brevetti sui vaccini per i paesi in via di sviluppo e per chiedere maggiore attenzione a chi durante la pandemia ha perso il proprio posto di lavoro. Lavora al centro anche del sitino a Piazza San Giovanni contro il governo Draghi organizzato dal Partito Comunista e al quale hanno partecipato circa 300 persone. Voltiamo pagina per un momento, perché in questi giorni c'è un altro tema caldo, è quello della manovra economica. Ha avuto il via libera nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri, dal governo. Adesso inizierà il suo iter parlamentare, ma non convince però le rappresentanze sindacali. Lo sciopero generale non è all'ordine del giorno, ma i sindacati restano sul piede di guerra per la manovra, mobilitati con assemblee sui luoghi di lavoro e iniziative regionali. I segretari generali di CGL, Maurizio Landini, Cisla Luigi Sbarra e Will, per Paolo Bombardieri, fanno il punto in videoconferenza, ribadiscono le richieste sul lavoro, fisco e pensioni avanzate nell'ultimo incontro a Palazzo Chigi con il governo, che chiuderà nei prossimi giorni il testo della legge di bilancio per sottoporlo al Parlamento. Prima tappa al Senato, probabilmente a metà della prossima settimana. Per la Previdenza i sindacati insistono sulla necessità di una riforma complessiva e considerano irricevibile il superamento di quota 100, somma di età anagrafica e contributiva, per andare in pensione, con l'introduzione di quota 102 per il 2022, per poi ritornare rapidamente alla legge Fornero. I sindacati puntano almeno a ridurre le penalizzazioni per le donne, ad aiutare i giovani e i precari, penalizzati da lavoro e versamenti discontinui e da salari bassi su chi si versano i contributi, a estendere la platea dei lavori usuranti, per cui sarebbe possibile andare in pensione prima. Se si vuole ragionare sul sistema contributivo, spiega Landini, va tenuto conto che se i giovani sono precari lungo la vita lavorativa, saranno senza pensione, quando tra 40 e 45 anni ci andranno. Un sistema contributivo, se non è fondato sul lavoro stabile e su salari dignitosi, vuol dire determinare dei poveri quando andranno in pensione. Sbarra, chiede al Governo, di destinare l'intero fondo di 8 miliardi stanziato per ridurre la pressione fiscale al taglio delle tasse ai lavoratori dipendenti, ai pensionati e alle famiglie. Il Presidente della Confindustria, Carlo Bonomi, invita tutti a mettersi al tavolo e vorrebbe che gli 8 miliardi stanziati per il taglio delle tasse fosse utilizzato per ridurre i contributi. Così si mettono soldi nelle tasche degli italiani e abbassando il costo del lavoro si rendono più competitive le imprese, spiega. L'andamento del Covid in Italia nelle ultime 24 ore, secondo il report settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità, la curva è in risalita, c'è stato un più 37%. Sono concentrati in particolare nella fascia di età inferiore ai 20 anni i casi di contagio, per lo più sono persone che non si sono vaccinate ma sottoposte a tampone. La tensione ora è sui più giovani. L'Istituto Superiore di Sanità è evidenziato come il 24% dei casi diagnosticati riguardano bambini e ragazzi sotto i 20 anni. Tra questi più della metà appartengono alla categoria non vaccinabile sotto i 12 anni. La tensione quindi ora è sul mondo della scuola, in particolare sui docenti che potrebbero essere tra le prossime categorie alle quali verrà destinata la terza dose di vaccino. Al 90% del personale sconastico è stata somministrata la seconda dose di anticovid tra maggio e giugno. I dati covid settimanali indicano una ripresa dei contagi dovuta probabilmente alle temperature autunnali che spingono le persone a rimanere nei luoghi chiusi. Ieri i nuovi positivi sono stati meno di 5.000, cifre in calo rispetto al giorno precedente, ma il lieve aumento 900 in più rispetto a sette giorni fa. 37 le vittime, così come crescono i ricoveri nei reparti covid ordinari non in terapia intensiva. Sono i dati settimanali che destano attenzione. L'indice di trasmissibilità RT è allo 0,96, ma le previsioni lo danno in salita all'1,14. Il numero dei vaccinati aumenta lentamente. Sono ora 44 milioni le persone che hanno completato il ciclo vaccinale e corrispondono a meno dell'83% della popolazione sopra i 12 anni. Più velocemente crescono invece i richiami, poco meno di 1.300.000 le terze dosi somministrate. I grandi centri vaccinali cominciano a chiudere con il calo dell'affluenza massiccia. È emerso chiaramente lo zoccolo duro di chi è contrario all'anticovid. Ci sono 7.400.000 persone scoperte. Duplice omicidio volontario. Questa l'accusa ipotizzata dagli inquirenti a carico di Vincenzo Palumbo, l'autotrasportatore, 53 anni, che ha sparato uccidendoli. Due ragazzi di 26 e 27 anni mentre erano in auto, fermi in una via periferica di Ercolano. L'uomo si trova attualmente in stato di fermo presso il carcere di Napoli. Dai riscontri, seguiti attraverso alcune telecamere, sono emerse palesi e molteplici contraddizioni sulla ricostruzione data dall'uomo che aveva raccontato e di avere scambiato i due ragazzi per ladri. Palumbo ha sparato contro di loro quando già si stavano allontanando in macchina. I colpi sono stati più del doppio di quelli dichiarati, ben 11, di cui 5 hanno attraversato il tettuccio del veicolo colpendo mortalmente alla testa i giovani. Per il magistrato, per la dinamica dei fatti, per il numero, la sequenza e la direzione dei colpi esplosi, gli esiti delle indagini rivelano una condotta intenzionalmente, senza giustificazione, rivolta a cagionare la morte violenta dei giovani. E ora la pagina dello sport. Partiamo dal tennis. Grande delusione per la sconfitta di Yenixin nella semifinale di Vienna. L'Azzurro aveva in pugno il match, ma ha finito per arrendersi allo statunitense Tiafò. Vediamo. Nel tennis ci sono molti termini per indicare la paura di vincere, quella che, tutto ad un tratto, sbarra la strada al giocatore che sembra avere il vento in poppa e che lo costringe alla resa. Esattamente quello che è capitato ieri a Sinner, di solito impermeabile alle emozioni e freddo nelle situazioni difficili. Ma risulta davvero arduo, se non con un calo di tensione, spiegare il suo crollo nel secondo set, quando sul 5-2 avrebbe potuto chiudere agevolmente il match contro lo statunitense Tiafò. Probabilmente il suo rivale, che sino a quel momento aveva avuto ben poco spazio, è riuscito, anche con qualche gag che ha conquistato il pubblico viennese, a innervosire terribilmente Sinner. Al punto da strappargli 11 degli ultimi 13 games dell'incontro, terminato 3-6-7-5-6-2 dopo 2 ore e 19 minuti. Per il numero 49 delle classifiche è arrivata allora la prima finale della stagione contro Sverev. Il tedesco ha dominato con un doppio 6-3 senza appello la semifinale con il giovane spagnolo Alcaras. Per Sinner nulla di irreparabile, soprattutto in vista delle finali ETP di Torino. Domani salerà il decimo posto del ranking, all'ottavo della classifica stagionale, ma forse si può parlare di un campanello d'allarme. Qualcosa di simile è già capitata, ad esempio dopo la finale di Miami è uscito al secondo turno a Monte Carlo, e dopo il trionfo nel torneo di Sofia c'è stata l'eliminazione a sorpresa agli ottavi di Indian Wells contro un non irresistibile Fritz. Sta adesso a lui che sotto la guida di Riccardo Piatti dovrà recuperare l'autostima e tenuta nervosa superare l'ultimo ostacolo prima delle finals, il corneo di Parigi per sì. Un evento a cui invece ha deciso di non partecipare, certo ormai del pass per Torino, Matteo Berrettini. Il tenista romano ha preferito guarire senza fretta da un problema al collo per potersi presentare alle finali al meglio della condizione. E per il calcio, negli anticipi dell'undicesima giornata della Serie A la Juventus subisce la sua quarta sconfitta in campionato perdendo 2-1 in casa del Verona. Finisce 2-2 Atalanta-Lazio mentre il Torino travolge per 3-0 la Sampdoria. Oggi in campo tra le altre Inter, Udinese e Roma-Milan. Una sconfitta pesante, la seconda consecutiva nello spazio di soli tre giorni. Dopo quella casalinga di mercoledì col Sassuolo, la Juventus ha pagato Dazio anche in casa del Verona che sfruttando il momento di grazia del ciolito Simeone ha fatto su all'intera posta. Due reti nello spazio di tre minuti hanno impresso la svolta al match col solo Di Bala capace di creare i pericoli alla porta di Montipò, clamorosa la traversa colpita a fine primo tempo. Nella ripresa Allegri ha cambiato il volto alla squadra e tra i neoentrati è stato McKinney a pescare il giole accorciando le distanze. Nel forsennato assalto finale alla ricerca del pari e dopo che Kallin ci aveva fallito il possibile 3-1 ancora Di Bala ha esaltato i riflessi di Montipò la cui prudezza ha consentito al Verona di condurre in porto la vittoria con cui aggancia a quota 15 proprio la Juve e la Fiorentina. Sfortunata invece la Lazio, la miglior prestazione stagionale non è stata sufficiente per piegare a domicilio l'Atalanta. Dopo il tapin vincente di Pedro, la squadra di Sarri ha subito il pari di Duman Sapata due secondi dal fischio del riposo. Ripresa forti tinte bianco-celesti e nuovo vantaggio col solito Ciro Immobile che ha raggiunto a quota 159 il mitico Silvio Piola. Ma quando la Lazio già pregustava il successo si è vista raggiungere nell'ultimo minuto di recupero da Deron che ha raccolto la sfonda aerea di De Miral sul cross di Malinowski. Nel posticimo serale facile successo per 3-0 del Torino sulla Sampdoria in vantaggio nel primo tempo con un gol dell'ex Praet i Granata hanno raddoppiato inizio ripresa con Livoriano Singo su azione di contropiede e in pieno recupero Capitan Belotti ha fissato il punteggio col suo centesimo timbro in Serie A. E oggi il menù altrettanto ricco con l'Inter che alle 12.30 aprirà le ostilità ospitando l'Udinese in una domenica che vivrà sul posticipo serale tra Roma e Milan con Stefano Pioli che si affiderà sin dal primo minuto a Slatan Ibrahimovic mentre Giuseppe Murigno riproporrà il consueto 11 con l'unico dubbio in attacco tra Mkhitaryan e Del Sharaoui. E una notizia appena battuta dalle agenzie un giornalista filippino è stato ucciso nell'isola di Mindanao la leggiamo insieme è stato ucciso nella sua abitazione con 6 colpi di arma da fuoco sparati da un uomo che ha fatto eruzione nel suo appartamento sull'isola di Mindanao lo ha reso noto la polizia locale la vittima, Orlando Di Noi, era un reporte del sito online newsline Filippines il conduttore di programmi per l'emittente Energy FM il funzionario di polizia ha aggiunto che l'uomo è morto subito uno dei moventi che esaminiamo il suo lavoro di giornalista hanno fatto sapere ma nessuno può darci al momento una pista concreta Di Noi, il nome del giornalista ucciso è il ventunesimo ucciso nelle Filippine dal 2016 da quando è assurdo la presidenza del paese Rodrigo Duterte ha sottolineato l'Unione Nazionale dei giornalisti delle Filippine il capo della Polizia Nazionale ha ordinato un'indagine approfondita e ha promesso di proteggere i media in un rapporto pubblicato questo mese il Comitato per la protezione giornalista ha classificato le Filippine al settimo posto nell'Ordine Mondiale di Impunità istituito nel 2008 con 13 omicidi di cronisti di cui non sono stati finora mai identificati i colpevoli e allora è tutto, sono le 7 e 48 minuti io mi fermo qui, adesso c'è Paolo Sottocorona con le previsioni del tempo e poi c'è Flavia Fratello che conduce il dibattito i suoi ospiti questa mattina sono Luca Sisto, Jacopo, Giliberto, Marina Baldi Leonardo Becchetti, Edo Ronchi Antonio Villafranca a tutti voi, una buona domenica, grazie